Il diktat di Morcone d'imporre ai sindaci del Friuli Venezia Giulia di accogliere nei loro comuni migrati clandestini è inaccettabile. E ancor più inaccettabile è il servilismo di Serracchiani verso il governo nazionale. La Presidente della Regione dovrebbe tutelare i cittadini della nostra Regione, invece che sottostare a quanto imposto dal Governo. Noi dobbiamo respingere gli immigrati clandestini e non permettere che oltrepassino il confine del Friuli Venezia Giulia. Invece la soluzione di Morcone è quella di accogliere chiunque e spargerli indistintamente sul territorio nazionale, impedendo di fatto un reale controllo e quindi la sicurezza dei nostri concittadini. Chiedo ufficialmente al Ministro Minniti di rimuovere Morcone perché è inaccettabile che un prefetto, invece di rispondere alle esigenze dei cittadini di questo Paese, continui ad alimentare un'immigrazione incontrollata che danneggia la nostra società, la nostra cultura, le nostre tradizioni e soprattutto metta a rischio la sicurezza.